Giustizia! 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 Io voglio sapere se la giustizia esiste o non esiste. Quanto tempo fa è stata scoperta questa malattia e quanto è durata? 8 mesi, 8 mesi. Il 17 dicembre. L'abbiamo operato. 8 mesi è durato mio figlio. L'invoma di Burghit. Quanti anni aveva il suo figlio? 19 anni. Il suo figlio studiava? Sì. Adesso è diplomato, geometro. Adesso, adesso, adesso. E' nello mio figlio, sì. Che sta succedendo, signor, in questo paese? Non si capisce nello più. Stanno morando tutti i giovani, stanno spegnendo tutti i loro sogni. Questo sta succedendo. Quello che hanno fatto nel passato lo stiamo contattando adesso noi, lo stiamo evocando adesso noi. Questo sta succedendo. Ma non è giusto i nostri figli? No. No. Pure è loro. È il loro futuro. E' una, è l'ultima salute. E' una, è l'ultima salute. La mia figlia è morta il 9 aprile 2014. Tre anni col tumore al seno. Per colpa di tutti che si sono venduti. E voglio soltanto una cosa. Non l'hanno papà. Non l'hanno papà, i genitori. Ci sono venuti. E i figli sono qui. Perché ho il padre da sentire loro loro. Che già sono tutti. A figli giorno per giorno. E morì. Che è inginata da c'è. Loro danno il colpo e hanno papà e i figli. Hanno morì giorno per giorno. Come ha già visto i morì a figli. Ho l'ultimo sospetto. In che braccio me! A Dacera si continua a morire troppo e soprattutto continuano a morire troppi giovani. Secondo voi perché? Perché è una politica corrotta praticamente. C'è troppa mafia, eco-mafia. Ci sono persone che non hanno voglia di reagire. Ecco il perché. Le istituzioni cosa stanno facendo? Niente, assolutamente niente. Si continua a smaltire immondizia dappertutto. Si continua a morire di cancro, come al solito. E loro seduti in una scrivania senza fare assolutamente niente. Tuo zio ha pagato tantissimo, prezzo molto alto pagando con la vita. Tu oggi sei in piazza nuovamente. A CERRA torna nuovamente in piazza. Qual è il significato della manifestazione di oggi? Il significato della manifestazione è semplice. Noi siamo contro l'eco-mafia. La stessa eco-mafia che continua a uccidere nonostante i vari processi, nonostante le varie responsabilità già inflitte a questi personaggi. Il problema è che manca una legge seria che praticamente tolga da mezzo la prescrizione per i reati ambientali e modifica i delitti, che modifica le sanzioni in delitti. Perché è inaccettabile che chi ha provocato un disastro ambientale su questo territorio se la possa cavare con la prescrizione. È colpa dell'ambiente, dell'inquinamento. Nessuno fa nulla per aiutarci. Dobbiamo lottare da soli. Infatti, stiamo per la strada. Farci sentire e farci vedere. C'è chi sta continuando a lottare. Chi ha lottato ha vinto, chi ha lottato ha perso. Dipende. Però comunque lottiamo tutti.